Il capo mi ha fatto vedere un articolo di gossip stamattina, parlano tutti di questo tuo nuovo rivale, ecco i dettagli Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio di F1 2016, allora eccoci qua, ci eravamo lasciati come sempre in attesa di iniziare il Gran Premio del Brasile Tra l'altro controllato il calendario e sembrerebbe che questo qua per quanto riguarda questa stagione dovrebbe essere l'ultimo video, ovvero ci sono da fare solamente gli ultimi due Gran Premio Ovvero quello del Brasile e regola quello di Abu Dhabi Comunque, allora come vedete, come avete visto al pesettino prima, adesso la rivalità siccome l'avevamo vinta quella con Verstappen è cambiata E' tornata quella con Bottas, che secondo me comunque è più, tra virgolette, più giusta, perché nella classifica veloti Bottas momentaneamente è avanti a Verstappen E credo anche che ci rimarrà, perché mancano solamente due Gran Premio Comunque, detto questo, torniamo indietro, stiamo attenti perché nei video precedenti se non sbaglio non l'ascoltai E ascoltiamo la segreteria telefonica Allora, dodicesimi, vabbè, nelle solite osse è tornato Bottas e Verstappen è sconfitto, ok Quindi ora iniziamo le qualifiche Bentrovati alle qualifiche di Interlagos, le monoposto sono quasi pronte per questa sessione decisiva Allora, eccoci qua, assetto L'assetto, dè, è rischioso, Fraverto, guarda, maledietta, la sera piove Dè, non so se mette il 3, cioè se lasciare il 3 mette il 4 No, io vado, vado su, rimango sul 3, perché magari piove, poi, macchina è ancora più difficile, in teoria, da tenere in pista E quindi no, è lunga così Tanto la regola, se piove, comunque, gli altri Vanno veloci, ma non velocissimi, ecco In teoria, o perlomeno, dall'altra volta è sempre sembrato così Comunque andiamo avanti il tempo Ok, finiamoci qua, anzi, no, c'è sempre un bel galonzo Eccoci, allora 12esimo posto è 1,26, 480 di Kiat La Melo sarebbe rimanere sotto l'1,26 Così ci batte, sia Verlaine che Bottas Cosa veramente particolare, ragazzi, Bottas è dietro a Verlaine Mamma mia Comunque, detto questo, usciamo Iniziamo il nostro giro A quanto pare non piove più O ha smesso, o boh O altro, perché comunque abbiamo le morbide E fra l'altro la pista sembrerebbe abbastanza asciutta Anzi, abbastanza, decisamente asciutta Però vabbè Speriamo almeno per le qualifiche possa tenere questo tempo Almeno per questo giro O eventualmente altri giri che devo fare Attenzione, guardiamo un po' Terzo Bielusso Comunque sono cambiati i tempi, eh Addio, sono anche fuori Perché, appunto, col fatto che la pista sia asciugata Mi pare, se non sbaglio, dobbiamo fare 1,26 Alla fine abbiamo fatto 1,15, quindi sono più meritanti Meglio così Comunque, ora è cambiato fino a tre giorni fa Per l'Ener Abarth Va bene, via Teniamo il garage e speriamo che nessuno possa superarci Vediamo un po' Credo comunque che sia veramente la prima volta Che ne valza la pena uscire più tardi dai box Comunque, alla fine siamo certi E va bene così Perché non te l'obiettivo era il dulcesimo Comunque, vedete Dal diciassettesimo che è Rosberg Game point, guardate avanti ce ne è forti C'è Rosberg, Bottas Alonzo che non è male Crocian Insomma, da quelli che hanno intermedio Infatti ce ne hanno all'incirca 10 secondi in più Rispetto all'ultimo che ha invece le morbide Quindi ce ne è andato abbastanza bene Dai Comunque, tutto sommato Per quanto riguarda le qualifiche Non sono state ottime, chiaramente Ma sono state buone Perché sono arrivate i settimi E con questa serie, fra l'altro Ci ha permesso di superare tutti i teleobiettivi Bene così Sì, siamo andati oltre le aspettative Sessione gara Ascoltiamo la segretaria telefona Ciao, sono Emma Volevo solo dirti cosa si aspetta il team da te Allora, decimo posto E ok, le solite cose Va bene Questa volta siamo tornati indietro Questa volta mi pare che volevano Che arrivassi ottavo almeno Adesso siamo tornati al decimo posto Ma non mi pare il vero, meglio sì C'ho meno pressione Volere è potere E nessun luogo più di Interlagos È in grado di dimostrare Quanto sia vero questo detto Fu proprio qui che Senna Vinse Nonostante un cambio bloccato Sulla sesta Cinque gare che hanno deciso Il titolo piloti di fila Dal 2005 al 2009 Gli appassionati tifosi brasiliani Ogni anno fanno registrare Il tutto esaurito sugli spazi Come ho detto prima Ora diluvia Maledietta la miseria Comunque metto 24 kg Lasciamo quella intermedia A quanto pare Fidiamoci come sempre Degli ingegneri Dei nostri meccanici Speriamo bene Comunque Siamo qua Ok, buttiamo giù la frizione Partiamo Cerchiamo di non fare la botta Perché qui è probabile Parecchio Andiamo sull'esterno Cerchiamo di non andare a nessuno Ecco Bella merda Vai, 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 vai Ok, siamo sesti Proviamo il sorpasso Anche su Ricciardo Freghiamo in tempo Vai Sì, ok Abbiamo superato anche Rai Comenziamo quarti Buono Decisamente Comunque un buon inizio La cosa ne vede Come va a finire Perché qui quando piove Si sa Soprattutto con me alla guida Il fatto di arrivare fino alla fine Non è una cosa scontata Per niente Proviamo il sorpasso su Vestappen E' buono E' scansato Bene così Allora Alla fine del primo giro La situazione è questa qua Siamo terzi E siamo abbastanza Non vicinissimi Però abbastanza vicini Ai primi due Che sono Hamilton E Vettel La regola Attenzione vai Sorpasso anche su Vettel Perché lui Si è scansato Adesso siamo Almeno per ora Secondo Vediamo se Riusciamo a rimanerci Addirittura Riusciamo anche A prendere Hamilton Ora si vede Ai 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 Dai Ah Che cazzo ho fatto Maledetta Una miseria Cane Ho sbagliato tutto Porca miseria Porca miseria Porca miseria Alla fine Tutto sommato Sono Sesto Non si vede Andare peggio Però Oddio Cioè La cosa là L'anteriore destra È spaccata ah che palle ho sbagliato pensavo Hamilton frenasse un po' più tardi allora dalla botta a ora non è cambiato niente cambia adesso che supero Ricciardo e forse ripeto forse anche Verstappen si spera si spera anche di non fare come prima ecco Hamilton vai a regola ho superato anche Verstappen si decisamente allora avanti c'ho Raikkonen il problema di aver superato questi due è che tanto quando vado a box siccome loro a regola non c'hanno niente danneggiato al contrario mio che c'ho un pezzettino dell'ala destra rotto loro tante mi risuperano perché ci mettere più a box sto di più sto qualche secondo in più quindi diciamo il fatto di essere quarti per adesso è contrariativamente spero almeno di ritornare Siesto magari che ho creato aiuto 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 hai creato un distacco tale da permettermi di rientrare poi Siesto e di rimanerci io rispetto alla Settempo quello è l'obiettivo dato che la situazione attuale è questa qua vabbè si vedrà comunque Verstappen è sempre dietro ha provato a superarmi ma meno male errore è sempre dietro ma questo è il giro in cui dobbiamo rientrare box il chiave deve entrarci bene ok così buono insomma più o meno è andato bene e guardiamo un po' dove andremo a finire è rientrato anche Ricciardo anche se veramente supererà infatti ciao Ricciardo boom ecco l'ho quanto siamo ora quindicesimo addirittura ecco l'ho ecco lì tutte le box o perlomeno avremo parte lì davanti senza le box vediamo un po' chi ce la facciamo a superare e chi no buono siamo come avevo previsto e speravo Siesti ci si fa sì ok mamma mia non la pe- no 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 voglio perdere il controllo mamma mia si si siamo senti allora ora sul rettino qua quando mi riesce eccolo qua proviamo a mettere la grassa già adesso ora non so se mi può bastare fino a fine gara però puntualmente torneremo alla standard della maglia però proviamo già a mettere la grassa comunque giro veloce per noi proviamo un sorpasso così brutto su Verstappen e allora a questo sembrerebbe essere andato è già qualcosa ora proviamo anche il sorpasso dopo se ce la facciamo si spera su Richard se Richard deve essere Riccardo o non Riccardo probabilmente va a dirlo uguale ancora giro veloce e si supera regola anche Riccardo buono vai andato allora un altro giro veloce e fra l'altro voglio sfruttare il momento per vedere quanto manca quanto di stacco c'è fra me e se non sbaglio mi è sembrato di vedere che c'è poco meno anzi più o meno tre secondi di distacco mancano pochi giri ce la faremo a prenderlo o a provarci almeno chi lo sa vedremo no mi sa che alla fine non ci si fa perché prima ho preso un urba male e fra l'altro poi non scordiamoci che la Ferrari improvvisamente infatti ho ramentato anche il distacco la Ferrari improvvisamente che dopo una metà di gara comincia a pigiare parecchio e diventa veramente quasi impossibile da riprendere infatti tra l'altro a regola il primo non è più Hamilton bensì Vettel tra l'altro sì come appena ha detto la radio addio iniziamo l'ultimo giro fra l'altro prima mi ha detto che il carburante che mi rimane è per solo i due giri lo so che ne manca uno ma per non rischiare mettiamo addirittura la magra tanto a regola salvo errori salvo imprevisti dovremmo arrivare a quarti a regola allora Vettel l'ha vinto alla fine tutto sommato non eravamo così distanti dal primo sinceramente che sia ondo però addio no 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 non ci voglio erede è uno scherzo no vi prego ditemi che è uno scherzo cioè ragazzi veramente su un rettilino mentre stavo parlando ho perso il controllo della macchina ma perché l'ho perso cosa è successo perché perché no voglio sapere perché un attimino eh lo voglio rivedere cosa cazzo è successo che mi ha fatto sbandare io stavo non ho nemmeno preso l'erba bimbi guardate cosa fa la macchina vado tranquillo giro di va boom provvisamente va di va non ci voglio erede io bimbi cioè era lì l'arrivo si vede da qui io non ci voglio erede ma poi alla fine va bene non ci si può fare niente ritiriamoci dalla sessione cioè arrivavo Varto completavo tutti e tre gli obiettivi niente la merda bene ora è il tempo dei pescatori e dopo questa gara diamo un'occhiata a la classifica del mondiale piloti ottimo risultato per Sebastian Vettel l'uno è ritirato io 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 non ci voglio erede ma direi Nicordino non ci credo perché così sembra veramente che sia fatto apposta come a cazzo ho fatto a perdere il controllo della macchina adesso andiamo al prossimo weekend vediamo un po' cosa succederà come andrà l'ultimo gran premio della stagione almeno velo vediamo se riusciamo a farlo male decente anche se ripeto se no io questa volta io di Orp ci sono veramente veramente poco perché io non lo so non capisco non ho fatto niente che mi ha portato a perdere il controllo boh eccoci qua come avevo detto deve essere quello di Abu Dhabi e niente vabbè andiamo già alla sessione qualifiche ascoltiamo la segreteria ciao come stai questi sono gli obiettivi per le prossime qualifiche tredicesimo e botta si per l'anno ok no ragazzi mi ha buttato troppo giù questa cosa del Brasile ma troppo ma troppo ho in merda eccoci arrivati sullo splendido circuito di Gias Marina dove stanno per avere inizio le qualifiche buona visione allora l'assetto rimane visto perché a parte il retiro lì diciamo che come vedete velo in alto per il resto sui viena gara in cui la macchina non va tirata spesso al massimo quindi l'assetto è bene quello delle gomme lo sanno l'oreo sempre guardiamo un po' continuiamo a arrivare ai tredicesimi mi pare di sì sì per regola quindi guardiamo un po' come si comportano gli altri allora tredicesimo è verline fra l'altro ha fatto 1.46 quindi dovremmo andare sotto 1.46 e se vogliamo fare esagerati quindi andare anche sotto a Bottas no eccolo vi Bottas non l'avevo visto anche lui è dodicesimo e fa parte diciamo degli over 1.46 quindi in teoria se vogliamo superare tutti e tre obiettivi dovremmo andare sotto 1.46 guardiamo un po' bello visto una ossa che mi stragarba anche se poi magari posso benissimo sbagliare anche in questa ossa qua ovvero ho visto che abbiamo le ultramorbide e mi ci trovo stra bene con ultramorbide via guardiamo di iniziare il giro bene e di qualificarci in maniera di mitose cerchiamo di rifarci dopo l'ultimo purtroppo brutto gran premio guardiamo un po' sotto alla grande tessi basta bene basta bene quindi torniamo al garage e a regola la situazione deve rimanere questa più o meno comunque dovremmo in teoria aver superato tutti e tre gli obiettivi guardiamo un po' siamo alla fine terza perfetto perfetto Bottas alla fine arrivato decimo Berlain quindicesimo ok via e almeno le qualifiche le abbiamo fatte bene cerchiamo di fare altrettanto la gara il gran premio insomma se per sé soprattutto speriamo un piove perché come avete visto quando piove mi succede sempre qualcosa tutt'ora non mi spiego cosa si è successo prima allora sessione gara ascoltiamo la segreteria ehi indovina un po' ho ricevuto gli obiettivi del team per la gara volevo farteli avere augurarti buona fortuna 10 ma botta se Berlain ok vediamo un po' si può fare qualcosa no pensate là è il 900 pensavo fosse non so come mai 750 invece no ok andiamo alla gara la notte si prepara a scendere su Abu Dhabi ma per gli 11 team al lavoro sulla griglia non è certo il momento di riposare si accendono le luci e siamo pronti a correre un'ultima volta sin dal suo debutto nel 2009 questa gara ci ha regalato grandi emozioni lo farà anche questa volta eccoci qua vediamo la strategia perfetto ci sono l'ultra morbide e il pale morbide anche se non capisco come mai preferivo sinceramente avere nel secondo no ok le super morbide allora si può fare ma ci si farà no vabbè rimaniamo con le morbide lo sanno loro come come gestire le osi ok allora va bene così 25 kg e mezzo ok iniziamo la gara abbassiamo come sempre la frizione guardiamo un po' pertenza buona 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 anche troppo anche troppo anche troppo anche troppo ok vi subito la prima curva cerchiamo di non sbagliare buono buono che siamo subito primi perfetto primo giro e la situazione attuale è questa direi che abbiamo già creato un po' di vantaggio buono così allora questo è il giro in cui dobbiamo rientrare le box mettiamoci al modino vai così buono e niente alla fine la situazione è rimasta identica a prima ovvero che eravamo primi però gli stack non è aumentato anzi credo che più o meno sia rimasto uguale allora adesso ci monteranno le morbide e vediamo un po' come andrà avanti la gara però per ora stanno abbastanza bene bisogna stare attenti alle ferrari perché già anche i racconi si chiama vecchio vedremo via ma che cazzo fa no bimbi ma è il cormo ma è il cormo no bimbi ma che finale di merda delle stagioni dai ma è uno scherzo dai ma è uno scherzo ma si può dai io non ci voglio redere ma perché ma perché è dovuto finire il video così ma cosa ho fatto ora ma niente ma niente no lo voglio rivedere ma mi hanno rotto il cazzo però che tutte le volte due volte vado in maniera discreta mi devono rompere i coglioni ta fa vedere ta ta ma guardatevi ma guardatevi via beh bel finale di stagione complimenti a tutti ma dimmi te ma dimmi te du gare o si du gare o si una che era varto e ci arrivavo perché lì e l'altra che probabilmente forse poteva arrivare prima ma comunque il pilota del mondo è Bette cosa sta facendo perché vado tu sei scatti te lo stai esultando ma comunque che sta andando così vabbè ok complimenti a Bette ci poteva essere lì sul podio maledietti loro maledietti alla fine non adesso siamo arrivati a pari punti con botta siamo arrivati a sessi noi ok guardiamo un po' no come mi girano i coglioni come mi girano i coglioni vediamo un po' cosa succede adesso eh vabbè però alla fine noi siamo sempre sul viola termine la stagione siamo felici con le carte esplosive esplosive giusto la stessa posizione e cambiamo i pilota vedete come se stiamo avuti faccio che si va il quinto boia ok tanto contratto abbiamo delle offerte chi ha bella merda a questo punto rimango con la mano ce l'avevo pensato rimango con la mano chi se ne frega il discorso mi chiama per dire la Ferrari allora si può ragionare rimango con la mano e chi se ne frega fatemi vedere una cosa per quanto riguarda il discorso ricerca e sviluppo l'unica che poteva tra virgolette essere migliore di noi ma di mi immagino di vanto poteva essere la McLaren per il resto la mano era quella meglio sicuramente della Forzinda e della Torre Rosso quindi sono contento di aver lasciato le cose così quindi andiamo prossimo a stagione vediamo un po' cosa succedere ok va bene io mi auguro che la mano comunque cioè la classifica delle scudine rimanga questa non è veramente un bel casino inizio la nuova stagione con il nuovo anno arriva una nuova opportunità ok non so cosa la tua prestazione l'anno scorso aspettiamo che tu finisca il tredicesimo posto o più in alto anche se i capiloti per quanto riguarda i costruttori non si sa quindi computer e niente qui praticamente si inizia fatemi vedere una cosa ok per quanto riguarda il scudine si rimane così e quindi niente quindi direi di arrivare a la conclusione come avete visto purtroppo il finale stagione non è stato buono anzi è stato parecchio deludente anche se questa volta rispetto a alcune gare successe anzi come successe in alcune gare passate io di colpe ne ho veramente poche credo e quindi bene o male anzi purtroppo queste due gare sono andate così resta rifatto però che alla fine abbiamo superato tutti gli obiettivi che ci avevamo previstati alla grande siamo andati decisamente oltre le aspettative soprattutto per quanto riguarda il discorso classico a piloti che dovevamo arrivare i ventesimi e siamo arrivati i sesti i sesti tra l'altro pari a un bottas come avete visto però per nostra fortuna siamo arrivati noi davanti a lui e quindi tutto sommato la stagione è andata più che bene anche se poteva andare meglio perché sia per queste due gare ma per altre gare purtroppo sono successe cose che non ce l'hanno fatte finire o perlomeno ci hanno danneggiato la classifica finale però come ho appena detto posso ritirare mi soddisfatto adesso come avete visto siamo arrivati all'inizio della nuova stagione abbiamo rifermato il contratto con la Manor perché me la sentivo preferivo rimanere qua piuttosto che andare in altre che fra l'altro a parte la McLaren per il resto sono fra l'altro più basse noi a livello di scuderia però adesso diciamo che da adesso l'obiettivo per me cambia perché vi dirò io inizialmente non so se l'avevo detto ovviamente lo dico per la prima volta l'obiettivo quando ho iniziato quando ho deciso di iniziare la serie era quello di partire con la mano e arrivi per dire la Ferrari e la Mercedes e poi fai il fenomeno e vinci tutto ecco siccome a quanto pare queste opportunità non ci sono e non voglio nemmeno andare avanti finire la stagione vorrei che questa qua fosse l'ultima stagione la seconda quindi da adesso io voglio formi l'obiettivo di vincere il mondiale con la mano siccome le possibilità ci sono alla grande seppur alla fine per le prime posizioni non è difficile come avete visto la Ferrari e la Mercedes danno parecchia noia però io ci voglio provare dato che come vediamo qua non si parte come ultimo team come era l'anno scorso ma si parte più o meno a metà classifica io voglio provarci e diciamo questa è l'ultima stagione indipendentemente da come andrà io però l'obiettivo è quello di arrivare prima di vincere il mondiale ma contenterei al massimo di arrivare a farmi tre sotto no a un fallimento lo dico così quindi queste sono diciamo le prospettive ecco e niente detto questo arriviamo alle vere poche conclusioni speriamo di partire già bene questo gran primo qua di Melbourne e e basta quindi non mi resta che dirvi ringraziarvi come sempre in primis per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra a fare se volete queste tre cose ovvero mettete un bel mi piace al video condividetelo ma soprattutto iscrivetevi al canale così potete rimanere aggiornati sui video soprattutto ma non solamente su questi video qua di questa serie qua via ragazzi speriamo che possa essere nemmeno questa stagione una stagione più entusiasmante che possiamo veramente lottare per qualcosa di importante adesso me ne vado alla sessione qualifica e ci vediamo poi nel prossimo video ciao ciao